Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. In una conferenza stampa il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha comunicato dopo l'azzeramento dell'Aggiunta dello scorso 29 dicembre di aver riconfermato 8 assessori su 9. Resta fuori solo Salvatore Cola Giovanni che non ha firmato il documento a sostegno del primo cittadino. Sentiamo. Dopo aver azzerato l'Aggiunta lo scorso 29 dicembre il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha riconfermato con proprio decreto 8 dei 9 assessori. Resta fuori dall'esecutivo Salvatore Cola Giovanni le cui deleghe vanno al primo cittadino. Bibiana Chierchia, Lidia De Benedittis, Francesco De Bernardo, Pietro Maio, Stefano Ramundo, Maria Pina, Rubino, Massimo Sabusco e Alessandra Salvatore conservano le deleghe che avevano. Chierchia confermata vice sindaco alla conferenza stampa assente De Bernardo Malato. Tranne Cola Giovanni dopo incontri con il sindaco tutti hanno sottoscritto a titolo personale il verbale redatto da Battista che ha effettuato una ricognizione e verifica degli obiettivi strategici riguardo la scadenza del mandato e l'attuazione del programma. In sostanza quattro mesi dalle elezioni hanno accettato di voler contribuire all'azione di governo della città anche per il prossimo quinquennio. Mi sono rimesso alla correttezza e lealtà di tutti, ha detto Battista, che ha ringraziato Cola Giovanni. Abbiamo scelto strade diverse e vedremo se si potranno ricongiungere in base alle strategie. Ringrazio l'assessore Il Cia, l'assessore Cola Giovanni per l'impegno profuso e per risultati, il lavoro che ha realizzato in questi quattro anni e mezzo. Ho posto una questione, chi vuole andare via può andare via, ma chi resta, resta fino alla fine e si ricandida con me alla prossima campagna elettorale. Quando dico con me, sgomberiamo subito e facciamo chiarezza. Io penso che un sindaco debba lavorare dieci anni, ma io ho dato la disponibilità alle primarie, quindi rispetto a questo verificheremo. Quindi è cambiato più di qualcosa, è cambiato il rapporto con alcune abitudini che purtroppo in questi anni si sono materializzate e durano anche negli anni. A me piace porre l'attenzione proprio su questo aspetto, aver posto la questione della coerenza rispetto al rapporto fiduciario con il sindaco. Lei avrà intenzione di sottoporre questo verbalino anche al resto della maggioranza? No, non ce n'è bisogno, io ho la responsabilità diretta della giunta. Con la Giovanni tra le condizioni chiedeva che Battista mettesse nero su bianco la sua ricandidatura a sindaco. Io lavoro in un contesto di centro-sinistra, una squadra, ha detto il sindaco in merito alla sua ricandidatura anche alle primarie. A me piacerebbe continuare l'esperienza di sindaco nella città di Campobasso, del resto ci sono molti progetti che aspettano di essere ultimati. Finalmente però li abbiamo sollevati tutti, li abbiamo tirati fuori dal pantano in cui stavano e quindi via via si completeranno comunque nei prossimi anni. Mi piacerebbe, verificheremo insieme al centro-sinistra se occorrono le primarie oppure si possono fare anche altre scelte. Io sono una persona che ha lavorato sempre nel centro-sinistra, ha contribuito a creare questo centro-sinistra e lavoro all'interno di questo contesto. Nel verbalino sottoscritto dagli otto assessori si legge che l'eventuale propria candidatura alle prossime comunali avverrà in una lista a sostegno del centro-sinistra, oggi rappresentato da Antonio Battista, un impegno morale ed etico secondo il sindaco. La città in mano al centro-destra non voglio rimetterla, ora chi sta dentro ha detto a maggior carico di responsabilità. Sui nomi di candidati che circolano, in particolare su Nagne ha risposto stiamo sotto questo cielo. Ho fatto il sindaco, io possono farlo tutti, i miei sogni non sono turbati. Sulla segreteria regionale del PD ha sottolineato il suo sostegno a Durante e a livello nazionale a Zingaretti. Ma cosa si muove dietro le quinte della scena politica comunale a Campobasso? Sentiamo Giovanni Di Tota. Come se nulla fosse, sorrisi larghi emanate sulle spalle in nome della vecchia amicizia e così l'ex senatore e l'ex presidente sono arrivati insieme a cantare le maitunate di fine anno a Fontana Vecchia. Storico rione di Campobasso dove la tradizione e il senso di appartenenza sono più forti delle pietre. Roberto Ruta e Paolo Frattura, entrambi del PD, ma tutti e due provenienti da una comune storia democratica cristiana, sono riapparsi per riannodare i fili di un centrosinistra che appare sempre più centro e sempre meno sinistra. E dopo anni di imbarazzi, silenzi, rotture e veleni, il comune di Campobasso, nel senso politico del termine, rimette sulla stessa strada l'ex parlamentare e l'ex governatore. A Palazzo San Giorgio, il corteo degli assessori che hanno firmato l'ormai famosa lettera di fedeltà a Battista, si è concluso come da pronostico. Tutti hanno firmato tranne uno. Salvatore Colagiovanni ha portato in tasca un contro documento nel quale chiedeva a Battista di candidarsi sindaco del centrosinistra, di sottoporre la questione anche ai capigruppo della maggioranza e di estendere la verifica degli assessori anche al lavoro svolto dai singoli. L'incontro, affettuoso dicono entrambi, è stato infruttuoso sotto il profilo politico. I due si sono salutati con un abbraccio e un in bocca al lupo rivolto alla prossima campagna elettorale. Un augurio che serve perché il centrosinistra è ormai come un'insalata russa e il filo conduttore di una linea politica non si riesce a individuare. Tutto passa dalla segreteria del PD che, almeno sulla carta, è il primo partito della coalizione. I candidati in campo, Facciolla e Durante, si richiamano entrambi a Zingaretti ma la loro sfida, prevista a marzo, rende poco probabile un confronto tra gli eventuali candidati sindaci e dunque difficilmente si svolgeranno le primarie. Ecco allora tornare in campo i professionisti dell'alchimia e della trattativa del dietro le quinte, ma anche il turbinio di nomi che questo giochino porta con sé. E il primo di quelli che si è riaffacciato con prepotenza è quello di Pierpaolo Nagni, storico amico di Roberto Ruta, fino a quando il primo si convinse a seguire Antonio Di Pietro, ma anche principale puntello della ex giunta guidata da Paolo Frattura. E si sa, l'allegria delle maitunate è contagiosa e i vecchi amici, prima o poi, una cantatella insieme, tornano sempre a farla. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, è arrivato a Isernia per un primo incontro con i rappresentanti molisani del PD. Nella sua prima visita in Molise, in vista delle primarie nazionali, è stato accolto da Michele Durante uno dei tre candidati molisani che concorrono alla segreteria regionale e che si riconoscono tutti nella mozione Zingaretti, il servizio di Enzo Di Gaetano. Arriva tardasera Nicola Zingaretti a Isernia, le 22 passate, un orario assolutamente inedito per incontri politici che sembrerebbero non interessare più nessuno, ma non è stato così per il governatore del Lazio, in corsa quasi solitaria verso la leadership del Partito Democratico. La sua prima visita in Molise l'ha fatta su invito di Michele Durante, presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, in corsa per la segreteria regionale insieme a Vittorino Facciolla e Stefano Buono. Ma Zingaretti tornerà in Molise, invitato questa volta da Facciolla, assente ieri sera Isernia, mentre l'altro concorrente Stefano Buono c'era e ha salutato Zingaretti, abbandonando poi i lavori. Zingaretti, pur se invitato da Durante, non si è sbilanciato in favore di nessuno dei tre candidati molisani alla segreteria, che sostengono del resto tutti la sua mozione, preferendo affondare il coltello nelle ultime due decisioni del governo gialloverde che hanno destato le maggiori polemiche delle ultime ore. La prima quella di salvare la cassa di risparmio di Genova, la città di Grillo, la banca in cui uno dei soci di riferimento è seguito dallo studio legale Alpa, il mentore di Giuseppe Conte, tanto che già si parla di un pesante conflitto di interesse sia di Grillo, genovese come la banca, sia dello stesso presidente del Consiglio. Il tema non è quello che è accaduto oggi, sono le cretinate, le porcate che hanno detto prima di oggi contro chi col governo di centrosinistra ha fatto le stesse cose. Quindi oggi si svela che anche sulle banche avevano detto una marea di bugie e hanno fomentato gli italiani praticamente sul nulla. E quindi ancora oggi è un'altra giornata che svela un altro degli imbrogli e dei trucchi di chi sta governando l'Italia. Altra polemica del giorno cavalcata da Zingaretti, quella relativa all'appoggio dato dai grillini ai gilet gialli francesi, col risultato di un Macron che ha accusato l'Italia di una grave scorrettezza politica ed ha avviato la procedura di rescissione dell'accordo tra Fincantieri ed STX, un'altra scelta indovinata del Movimento 5 Stelle che costerà migliaia di posti di lavoro all'Italia. Sia Di Maio che Salvini pensano che gli italiani sono dei polli d'allevamento, quindi per nascondere il non governo che stanno producendo ogni giorno si inventano una distrazione, delle bombe di distrazione di massa per nascondere quello che è accaduto alcuni giorni fa. Per impedire che gli italiani guardino a questo, ogni giorno se ne inventano una. Ieri i gilet gialli e poi in otto minuti di nascosto il salvataggio delle banche. Non perché non sia corretto farlo, ma perché ripeto hanno costruito il consenso sulla demagogia e sul racconto di bugie e ora non sanno più come gestirla. Michele Durante e Senna ad accogliere Zingaretti, in nome di che cosa Durante? In nome del Partito Democratico al quale ho aderito, che diventa la mia casa, come spero diventi la casa di tantissimi giovani molisani che non si appassionano di politica, che hanno perso la speranza perché la politica e i partiti hanno abbandonato quel compito di rappresentanza che la Costituzione gli delegava e in nome di una ritrovata, ricercata, area di cambiamento della quale tutti sentono il bisogno. A partire da Nicola Zingaretti, che l'ha esplicita chiaramente nella sua mozione per la Segreteria Nazionale, che io ho sposato pienamente. La cronaca adesso, una ragazza di 20 anni di un paese vicino Campobasso avrebbe presentato una denuncia per essere stata violentata da un giovane, pare suo amico, da quanto avrebbe raccontato la ragazza. Tutto sarebbe avvenuto all'alba di Capodanno, nel capoluogo di Regione, nell'auto del giovane dopo la serata in un locale. Indaga la squadra mobile e la versione della ragazza sarebbe al vaglio della Procura, che avrebbe acquisito anche un referto medico dell'ospedale dove si sarebbe recata la presunta vittima. Il giovane da quello che Trapela sarebbe indagato a piede libero. Aggiornato dall'ASREM il prontuario terapeutico regionale, inseriti tra gli altri anche i farmaci innovativi in materia oncologica. Pasquale Di Bello. L'ASREM, l'azienda sanitaria regionale, ha aggiornato il proprio prontuario terapeutico ospedaliero, inseriti tra gli altri anche i farmaci innovativi in materia oncologica. L'accesso immediato ai farmaci innovativi è una delle poche cose buone del famigerato decreto Balduzzi, quello per capirci che insieme ai problemi mai risolti del settore in esame ha messo in ginocchio la sanità regionale. Tra le cose da salvare del Balduzzi c'è quindi questa prescrizione che tra le altre cose è stata fatta propria anche dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Del resto l'aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero regionale che avviene su base semestrale rappresenta uno degli adempimenti obbligatori nell'ambito dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, seppure rientrando nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione, anche l'aggiornamento puntuale dei farmaci a disposizione, specie se innovativi, rappresenta un ingranaggio di quella grande catena di lotte e contrasto al dramma di molti cittadini. La recente adozione in Molise del progetto di fattibilità per il registro dei tumori rappresenta un punto fondamentale per la raccolta delle informazioni sulla incidenza e sulla prevalenza di determinate malattie tumorali. È necessario tuttavia che il registro possa dispiegare la sua piena operatività attraverso la adozione di un regolamento che ne regoli il trattamento dei dati personali. Tornando invece alla disponibilità dei farmaci innovativi, essi saranno distribuiti secondo le disposizioni diramate lo scorso 7 gennaio dall'ASREM presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli. CGL, Cislu, GL e FIALS hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale del personale della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. In una lettera inviata al direttore generale della fondazione, al governatore Toma e al prefetto chiedono un incontro urgente per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione in conformità con quanto disposto dalla legge. I sindacati comunicano di aver ricevuto mandato nell'assemblea del 28 dicembre scorso per la proclamazione dello stato di agitazione sindacale a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro della sanità pubblica periodo 2006-2009 per il mancato rinnovo ed adeguamento economico del contratto di lavoro della sanità pubblica sottoscritto in data 21 maggio del 2018. Considerato che le rivendicazioni fatte nel tempo hanno spiegato CGL, Cislu, UGL e Fialz sono rimaste puntualmente in evase. Al momento l'unica strada percorribile rimane il tentativo di conciliazione, di qui la richiesta di un confronto urgente. È stato inaugurato a Termoli un centro polispecialistico della fondazione Giovanni Paolo II. Si allarga l'offerta della sanità privata con numerose prestazioni e servizi, tra cui l'oncologia. Ce ne parla Manuela Iorio. La fondazione Giovanni Paolo II, ex cattolica, apre un suo poliambulatorio a Termoli. Il nuovo centro medico si trova in corso nazionale 99, a pochi passi dalla nuova via Dante, ed è stato inaugurato con una cerimonia a cui hanno partecipato i numerosi specialisti, i vertici della fondazione e il vescovo Gianfranco De Luca, che ha benedetto la struttura. Con questa nuova sede si allarga l'offerta privata di prestazioni e servizi sanitari, che almeno per il momento non sono convenzionati con la sanità pubblica. Il centro è espressione del connubio tra la fondazione Giovanni Paolo II e quella del Policlinico Gemelli di Roma e le specialità presenti sono numerose. C'è l'oncologia, l'oncoematologia, la medicina del dolore, la cardiologia, la chirurgia vascolare, l'endocrinologia, l'urologia, la diabetologia e tante altre ancora. Presto sarà attivato anche un punto prelievi. Il nostro poliambulatorio su Termoli risponde a un'esigenza che avevamo, insomma, di venire incontro alla città di Termoli e più in generale, diciamo, alla zona del Molise Adriatica, che ha oggettivamente, soprattutto nei mesi invernali, qualche difficoltà a raggiungerci. Invece abbiamo tantissima fidelizzazione, tantissimi pazienti che si rivolgono a noi per la terapia delle malattie cardiovascolari, delle malattie oncologiche, delle malattie chirurgiche. Abbiamo voluto non solo replicare quello che già si fa in fondazione e quindi, diciamo, i due nuclei fondanti della nostra attività, che sono le malattie cardiovascolari e le malattie oncologiche, ma arricchire l'offerta su Termoli con una serie di proposte specialistiche di alto livello che vedranno la partecipazione anche di colleghi del Policlinico Gemelli di Roma. Il centro sarà un riferimento anche per l'attività scientifica e la formazione, con la promozione di corsi e progetti di ricerca, nonché riferimento per quanto riguarda le malattie oncologiche. Credo che sia una realtà importante che si inserisce in un contesto dove già esistono alcune strutture, ma per quanto riguarda l'oncologia per noi sono sempre delle strutture insufficienti, perché la domanda è elevatissima anche in questa regione e questo ulteriore piccolo elemento si aggiunge a un miglioramento della qualità per i pazienti che vengono seguiti nel Molise e in particolare per l'area di Termoli. A Termoli esiste un'oncologia, esiste un ospedale, ma l'integrazione fra queste strutture di pubblico e privato consentirà forse di offrire qualcosa di più per i pazienti. Preseduta dal Presidente Quintino Pallante, si è riunita la Quarta Commissione Consiliare Permanente. Dopo la relazione dello stesso Presidente Pallante, la Commissione ha reso parere favorevole a maggioranza all'argomento relativo alle provvidenze in favore delle associazioni di tutela degli invalidi, contributi anni di attività 2016-2017. Il provvedimento passa ora all'aggiunta regionale per gli adempimenti seguenti. La Commissione, dopo aver ascoltato l'introduzione dell'argomento fatta dal relatore, il consigliere Gianluca Cefaratti ha reso poi parere favorevole, ancora una volta a maggioranza, al piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che passa ora al vaglio del Consiglio per il varo definitivo. Il consigliere regionale Nico Romagnuolo ha presentato nei giorni scorsi quale primo firmatario la proposta di legge istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità, dei biodistretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità. L'iniziativa, sottoscritta anche da altri capigruppo in Consiglio regionale, vuole esplicitare la volontà di approntare una tutela della specificità territoriale del Molise caratterizzata da una notevole biodiversità. Per questo motivo la legge si propone di disciplinare il funzionamento e tutelare nell'ordine distretti rurali e agroalimentari di qualità, biodistretti e distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità. Ha fatto tappa a Isernia il museo itinerante del risparmio e in questi giorni agli studenti vengono proposti percorsi interattivi e laboratori multimediali per far sì che i ragazzi adottino comportamenti virtuosi nel campo dell'economia e della sostenibilità ambientale. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Imparare a ridurre gli sprechi usando con maggiore consapevolezza le sempre più scarse risorse che abbiamo a disposizione, compreso il denaro. Con questo spirito è stato lanciato un progetto itinerante rivolto alle scuole ispirato dal Museo del Risparmio di Torino. È stato realizzato d'intesa con Bay Institute con Scania e in collaborazione con Intesa San Paolo. Da oggi fino a venerdì il museo itinerante è presente a Isernia in Piazzale Michelangelo. Insegniamo quanto sia importante risparmiare sia a livello economico che a livello di risorse. Abbiamo un'attività che consiste in un percorso guidato all'interno del camion in cui raccontiamo la storia della moneta, la storia delle bolle finanziarie e che cosa sono e come funzionano gli strumenti finanziari. All'esterno nell'area coperta invece insegniamo quanto sia importante recuperare le risorse per dare nuova vita agli oggetti e anche quanto sia importante quando si è in viaggio comportarsi in maniera responsabile e favorire e sviluppare un turismo sostenibile. Il tour partito da Milano prevede 22 tappe in 8 regioni. La settimana prossima il Save Discovery Truck sarà anche a Campobasso. Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 10.000 studenti. Grazie anche ai giochi destinati a stimolare la creatività dei ragazzi, l'iniziativa sta riscuotendo ovunque ampio apprezzamento. Sono incuriositi e interessati, dimostrano grande attenzione, molta partecipazione sia quando facciamo i percorsi sia quando facciamo la parte esterna, anzi direi soprattutto in questa perché è quella più ludica. Si tratta di un laboratorio didattico e quindi sono molto coinvolti. Progetti come questo aiutano i ragazzi ad acquisire comportamenti virtuosi, ma anche i loro genitori possono mettere in campo buone pratiche per risparmiare e condurre in porto progetti apparentemente irrealizzabili. Pensando in maniera progettuale, rendendosi conto che è importante cominciare quanto prima a definire un obiettivo e a pianificare per poterlo raggiungere. Quindi cominciare a mettere da parte adesso quello che si ha, rinunciando a qualcosina per potersi permettere qualcosa di maggior valore domani che altrimenti non saremmo in grado di acquistare. La notte scorsa a Campobasso in via Sicilia è stata rubata un'auto, una Peugeot 308 Station Vagon di colore bianco. Non è un'auto qualsiasi perché appartiene a un uomo affetto da disabilità per il quale rappresenta l'unico modo per muoversi. All'interno dell'auto c'era anche un motorino che consente alla carrozzina di funzionare elettricamente. Un doppio danno per l'uomo al quale non resta che sperare di poterla ritrovare. Aule senza riscaldamento all'Andrea di Isernia, la nuova scuola media di Via Umbria. Proprio a Isernia i genitori lamentano che la classe è provvisoriamente ubicata nell'aula di informatica e senza riscaldamento. Un'anomalia segnalata da tempo ma ancora non risolta con il rischio che i ragazzi che frequentano la prima A della scuola media finiscano per ammalarsi a causa delle basse temperature di questi giorni. Parliamo adesso dell'ultimo libro di Laura Venezia dal titolo Light, i misteri nella festa del Corpus Domini. Un nuovo punto di vista attraverso le foto di quella che è la ricorrenza più sentita a Campobasso. Il filo conduttore di questo racconto fotografico è La Luce. Sentiamo. Ama raccontare e scrivere Laura Venezia. Nelle sue pause dal lavoro coltiva questa passione per la scrittura a giallattivo dei libri pubblicati. L'ultimo fresco di stampa si intitola Light, i misteri nella festa del Corpus Domini. Ottanta pagine di scatti intensi, espressivi per raccontare, stavolta attraverso la fotografia, quel qualcosa di unico che è rappresentato dagli ingegni del dizinno, quel qualcosa di speciale che unisce tradizione, storia, fede. E Laura Venezia, stavolta utilizzato per dare corpo alle emozioni la grammatica della luce, Light, alla base della fotografia ma anche sostanza di altre forme artistiche. Sì, questo libro è un po' particolare rispetto ai libri precedenti. Mi sono sempre dedicata alla scrittura assieme al mio lavoro da medico, però nasce un po' tutto, se vogliamo, dal mio stesso lavoro di medico perché mi occupo di medicina estetica e di bellezza. Quindi ho cominciato in maniera anche piuttosto casuale fotografando le mie pazienti. Da qui è venuta fuori una passione grandissima per la fotografia e per la luce. La fotografia del resto è la scrittura con la luce e questo libro è proprio un libro sia sui misteri e sia più in generale come testimonia anche il testo che lo accompagna sul tema della luce, che è un tema importantissimo nella storia della cristianità, della religione, soprattutto nella storia ebraica. Ricordiamo ad esempio la festa di Anukah, la festa delle lampade, della luce. Quale tema migliore per raccontare con la luce se non quello dei misteri? La volontà di fare questo libro è nata proprio dalla necessità di far conoscere questo nostro bene, questa nostra ricchezza culturale anche al di fuori del contesto regionale e soprattutto perché non resti solo un fenomeno di folklore, ma quindi mettendo in luce soprattutto gli aspetti del mistero, gli aspetti anche un po' iniziatici, un po' esoterici se vogliamo, culturali e religiosi che questo tipo di processione ha da sempre ai nostri occhi. Il libro è edito da Marcianon Press legato alla Mondadori nella collana Il Crogiolo, dunque la luce, il filo conduttore di questo racconto fotografico in cui i primi piani limpidi, quasi dei quadri plastici, immortalano i protagonisti degli ingegni, angeli, santi, demoni, bambini, la donzella, raccontano le dicotomie luce e oscurità, bene, male. Il libro è diviso in due parti, quindi si può dire che poi la storia dei misteri è questo, volendo semplificare molto, quindi una lotta tra le forze del bene e le forze del male. Le foto presenti nel libro raccontano in due parti il tema sia della vestizione che della processione vera e propria e mi piace sempre citare le parole di un famoso fotografo Paolo Pellegrin che dice sempre io cerco di tirare fuori dal buio i volti delle persone. Ecco, molto umilmente assistendo soprattutto alla vestizione che è uno spettacolo, devo dire, a dir poco commovente, ho cercato proprio di tirare fuori dal buio i volti soprattutto poi dei bambini che rappresentano poi la meraviglia di questo spettacolo. A Castelmauro, presepe vivente organizzato dal Comitato per le attività parrocchiali, in tanti hanno raggiunto il paese nelle quattro giornate di apertura per condividere un percorso suggestivo allestito nel centro storico con oltre 30 scene, quasi 100 figuranti. Fabrizio Occhionero. Un impegno che si rinnova negli anni e coinvolge la comunità per condividere un progetto significativo e consolidare il senso di appartenenza a un territorio, riuscita la sesta edizione del presepe vivente di Castelmauro organizzato dal Comitato per le attività parrocchiali, quattro giornate di apertura per la sacra rappresentazione che ha richiamato presenze anche da fuori regione, lungo un percorso carico di realismo realizzato nel cuore del paese e incastonato in uno scenario reso ancora più suggestivo dalla neve. Dai bambini agli anziani in tanti hanno risposto con sensibilità per accogliere e accompagnare numerosi visitatori. Tutto contribuisce alla formazione della persona e della comunità. Io ammiro veramente lo sforzo che fanno questi ragazzi, li ammiro tanto, 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 il gruppo degli organizzatori perché effettivamente loro stanno rispondendo a quello che è stato il mio desiderio fin dall'inizio di questo cammino annuale. Vale a dire non basta rappresentare il presepe vivente ma bisogna ripresentare per cui loro prima ancora di rappresentare devono fare un cammino di ripresentazione vale a dire testimoniare con la vita ciò che vanno a rappresentare. Non sono dei semplici attori ma dobbiamo diventare attori cristiani i quali non soltanto dicono di conoscere il Signore ma lo sperimentano nella pratica della loro vita. Un percorso di spiritualità che si è snodato negli ambienti del centro storico di Castel Mauro riaperti per l'occasione grazie alla disponibilità dei proprietari. Cantine, stalle e case che raccontano storie del passato e hanno riproposto le tradizioni e gli antichi mestieri coinvolgendo i più piccoli nelle attività e offrendo prodotti tipici. Il tutto in uno scenario curato nei dettagli a ridosso della chiesa di San Leonardo Confessore. Un lungo itinerario fino alla grotta nella natività con l'arrivo nella giornata dell'epifania del corteo dei Remagi partito dalla chiesa di Sant'Antonio. Il comitato ha previsto anche un servizio portantini per permettere la visita del presepe alle persone con disabilità. Un intenso impegno organizzativo confermato da un gruppo sempre aperto a nuove adessioni e legato dall'amore per il Paese. L'impegno è stato più che totale, quest'anno soprattutto, prima il terremoto, poi la neve che come avete visto lungo il percorso ci ha fatto sì, insomma più gli altri che io devo dire la verità hanno reso possibile la serata di questa sera. Come avete visto ci sono circa 32 rappresentazioni con l'impiego di una novantina di figuranti e stiamo cercando insomma di mandare avanti questa tradizione che ormai appunto è giunta alla sesta edizione e cerchiamo di unire sia l'aspetto religioso che quello poi della natività in sé e sia le peculiarità che comunque il nostro territorio può offrire. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.